Mi chiamo Nadir Cortesi e vivo qui in Vallonsernone insieme alla mia compagna Sinchia e a mia figlia Elide. Partecipo allo sciopero per il futuro perché credo sia importante unire le forze per lottare per questa causa che riguarda tutti noi e le generazioni future. Noi qui viviamo in mezzo alla natura e sembra che il problema dell'inquinamento e del cambiamento climatico non ci possa toccare, in realtà ci tocca e ne siamo forse ancora più testimoni di coloro che vivono nelle zone urbane. Qui ci si rende conto soprattutto dell'estremizzazione degli eventi atmosferici e io soprattutto da quando ho le pecore mi rendo conto di come i cambiamenti climatici possano mettere in pericolo la nostra esistenza sulla terra e non solo a livello di perdita di biodiversità ma proprio di gestione delle risorse idriche ma di tanti fattori. Quindi appoggio questo sciopero e spero che questa giornata diventi la lotta di ogni giorno per un futuro migliore. No 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 no